Si sta parlando in queste ore del decreto scuola che però in questo momento non è ancora definitivo in quanto c'è ancora qualche nodo da sciogliere. Le diverse componenti del governo infatti non sembrano del tutto d'accordo su alcune questioni come per esempio il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie o di quello sui posti di sostegno senza però avere il titolo di specializzazione. Da quanto si legge nei social ci sono già anche molte categorie di precari molto insoddisfatti del provvedimento che potrebbe quindi ancora subire qualche modifica. Anche i sindacati rimarcano questa situazione. La stessa Will Scuola per esempio che solo pochissimi giorni fa si era pronunciata con toni entusiastici sull'intesa ministro sindacati del primo ottobre proprio nelle ultime ore ha diramato un comunicato che suona quasi come un ultimatum al governo ma soprattutto all'amministrazione. L'accordo sostiene il segretario nazionale Turi e c'è è stato fatto e i tecnici del MIUR e dell'economia non devono fare altro che metterlo in pratica. Cisle Scuola per parte sua chiede che il testo del decreto rispetti gli obiettivi dell'accordo del primo ottobre compreso quello del riconoscimento all'esperienza di lavoro maturata sul campo che deve riguardare tutti i docenti e ATA. Nel decreto manca infatti per ora una disposizione molto attesa e cioè la stabilizzazione degli assistenti amministrativi che hanno svolto la funzione di DSGA per un certo numero di anni. Si tratta di una misura particolarmente attesa da centinaia e centinaia di assistenti. Una delle richieste di questa categoria è proprio quella di prevedere una stabilizzazione prima della conclusione del concorso ordinario per DSGA. Infatti se l'operazione venisse effettuata successivamente non ci sarebbero in concreto posti disponibili. Così come manca una norma che affronti una volta per tutte il problema dei diplomati magistrale, molti dei quali vivono nella incertezza del proprio futuro in quanto ancora si attendono sentenze e decisioni della giustizia amministrativa. La ministra della pubblica amministrazione è invece riuscita a far inserire nel provvedimento la cancellazione delle contestatissime disposizioni volute dalla ministra buongiorno sul controllo delle presenze del personale ATA e dei dirigenti scolastici mediante strumenti biometrici. Non dovrebbe mancare neppure un comma per consentire l'attribuzione del cosiddetto bonus premiale ai docenti assunti a tempo determinato con buona pace di chi invece ne vorrebbe l'eliminazione definitiva. Il decreto ad ogni modo è ormai dato per imminente e potrebbe essere approvato già nel consiglio dei ministri convocato per il pomeriggio del giorno 10. Ovviamente questa è una questione calda quindi continueremo a tenervi informati sia su questo canale e soprattutto sul nostro portale www.tecnica della scuola. Continuate a seguirci, leggeteci e soprattutto scriveteci e mandateci i vostri commenti.